ben ritrovati sono fabio pizzur questo è il podcast in dialogo con i lombardi che ogni settimana la domenica tenta di dare risposte alle sollecitazioni che giungono da voi che siete attenti alle vicende lombarde e volete intervenire sui temi più disparati questa settimana ci occuperemo inevitabilmente di elezioni visto che siamo nel pieno della campagna elettorale per il voto politico del prossimo 25 settembre ma anche delle conseguenze del maltempo che ha colpito diverse regioni italiane nelle ultime ore andiamo con ordine sentiamo la prima domanda ciao fabio sono paolo e chiamo da milano dopo le recenti elezioni amministrative in molti si sono lamentati della scarsa partecipazione pur essendo i candidati persone conosciute nei diversi comuni cosa capiterà allora adesso con le prossime elezioni politiche visto che con questa legge elettorale i candidati sono sganciati dai territori molti non sono conosciuti alcuni candidati sono in più collegi e quindi non si capisce dove sceglieranno di andare effettivamente inoltre essendo le liste bloccate a scelta dei segretari di partito forse è già possibile prevedere in buona parte chi sarà eletto e chi no non mi pare ci sia in giro molto entusiasmo e che i partiti non aiutino effettivamente a riprendere contatto con le istituzioni come coinvolgere allora gli elettori grazie a presto grazie paolo per questa domanda una domanda complicata complicata e anche articolata lo avete sentito nella sua formulazione anzitutto un dato quello della scarsa affluenza al voto lo si è visto come ricordava paolo nelle recenti elezioni amministrative quelle che solitamente in italia venivano considerate le elezioni più sentite dai cittadini cioè quelle a cui partecipava la maggior parte degli elettori ebbene così non è avvenuto e il rischio che anche il prossimo 25 di settembre ci sia un ulteriore calo dell'affluenza al voto è più che reale come fare allora paolo diceva ma nelle elezioni comunali i nomi erano noti i candidati erano vicini al territorio e quindi riuscivano a coinvolgere gli elettori ciò nonostante l'affluenza è stata bassa io dico una cosa guardate c'è sempre meno gente che si occupa si informa si interessa di quello che è lo svolgimento della politica e anche quelle che sono i meccanismi elettorali da un lato perché sono meccanismi elettorali che cambiano ogni consultazione dall'altro lo accennava anche paolo nella sua domanda perché il meccanismo della legge elettorale nazionale è tanto complicato quanto farraginoso e allora proviamo a fare qualche ragionamento prima di tutto su questa legge elettorale una legge elettorale nota come rosatellum che ha una parte di deputati e senatori che viene eletta con il meccanismo del collegio uninominale circa il 31 per cento e il 62 per cento circa viene eletto tra i deputati e senatori viene eletto invece col sistema proporzionale poi dopo si vanno a riempire tutte le caselle per riuscire ad arrivare al cento per cento dei seggi assegnati quindi diciamo così per semplificare un terzo con l'uninominale e due terzi con il plurinominale come funziona l'uninominale in un ogni singolo collegio c'è un candidato per ognuna delle coalizioni che si presentano come aggregazioni di partiti o per partiti singoli se non si sono coalizzati con nessuno e viene eletto in quel collegio il candidato che prende un voto più degli altri cioè il candidato che ottiene più voti automaticamente questo diventa o deputato o senatore nel collegio invece plurinominale funziona che sulla base dei voti della percentuale dei voti ottenuti dai singoli partiti a livello nazionale in quel collegio plurinominale vengono eletti i primi due o i primi tre a seconda della percentuale ripeto che a livello nazionale ha preso il partito che uno ha votato in quel collegio quindi facciamo un esempio per essere più chiari se in un collegio plurinominale devono essere eletti dieci deputati quel collegio plurinominale della camera se il pd put a caso ha preso 25 per cento vedrà eletti i primi quattro del listino bloccato del pd in quel collegio avete capito tutto non credo è molto complicato e perciò cosa accade nella grande maggioranza dei casi che quando uno va nella cabina elettorale individua il simbolo e segna una croce sul simbolo del partito automaticamente questo gli consente di votare per il collegio uninominale scegliendo quindi quel nome del candidato per quel collegio e il suo voto automaticamente va anche al collegio plurinominale quindi dal punto di vista pratico il 25 settembre basterà fare una croce sul simbolo del partito prescelto questo però salta a pie pari quello che diceva paolo cioè nessuno si interesserà di quelli che sono i nomi che sono candidati in quel collegio uninominale o in quel collegio plurinominale e quindi nessuno di fatto saprà chi lo rappresenterà in parlamento io stesso faccio fatica a ricordare chi era il deputato che ha vinto nel mio collegio nelle elezioni del 2018 in realtà lo so era valentina prea faccio più fatica però ricordare che sono i deputati del collegio plurinominale del mio territorio che sono finiti in parlamento questo per dire che una legge elettorale assolutamente complicata che non favorisce il fatto che la gente si informi capisca come funziona e quindi allontana un po la partecipazione ed è una cosa alla fine che fa gioco anche ai partiti nessuno escluso della serie non preoccuparti tu vieni lì voti il mio simbolo poi i meccanismi e la scelta dei candidati dei futuri parlamentari l'abbiamo già fatta noi questo non favorisce certo la partecipazione l'entusiasmo però paolo mi chiedo anche un'altra cosa per essere molto realista quanto invece dei nomi più vicini al territorio potrebbero superare la farraginosità di questa legge elettorale e quanto realmente i cittadini si interessano se non nella piccola cerchia di coloro che si appassionano di politica riguardo il fatto che ci sia quello o quell'altro candidato è una questione molto molto interna agli addetti ai lavori e ai partiti questo però allontana sicuramente la partecipazione tant'è che poi anche dal punto di vista comunicativo che cosa accade accade che tutto si polarizzano nel dibattito tra meloni letta calenda conte e poi ci sono anche gli altri dei partiti più piccoli che dicono no ma ci siamo anche noi compaiono solo quei nomi lì e nella testa della gente anche a livello territoriale ci sono quei faccioni lì indipendentemente dal fatto che poi su quel determinato territorio ci siano dei candidati che si fanno in quattro che spendono molte risorse di tempo e anche economiche per far sapere che sono candidati in quel territorio con risultati però abbastanza sconfortanti di solito quindi diciamo così è un problema quello che poni reale paolo io credo che si possa risolvere con una comunicazione da parte dei partiti su temi che riguardano davvero la vita quotidiana delle persone alla fine deciderà su quello la gente se andare a votare o se e se andare a votare per chi votare non tanto sul fatto che e dico purtroppo è su quel collegio ci sia quel nome piuttosto che quell'altro nome perché ahimè i nomi sui collegi spostano quanti 3 4 mila voti non certo sufficienti per ribaltare il risultato che invece si consolida semplicemente con le croci messe sui simboli del partito sconsolante soprattutto per chi fa politica attiva però purtroppo la situazione nella quale ci troviamo è esattamente questa io quindi sono molto preoccupato per la partecipazione alle prossime elezioni del 25 di settembre perché credo che in tanti decideranno perché c'è troppa confusione poi perché non è piaciuto il modo in cui è stato di fatto sfiduciato e mandato a casa tra virgolette il governo draghi insomma tanta gente dirà perché devo andare a votare se poi tanto mi chiedono di mettere una x e poi scelgono tutti gli altri io credo però che si debba parlare di temi chiari che interessano la gente e che ci devono essere messaggi univoci una cosa che sa fare bene il centro destra è quella di puntare su 3 4 temi e far sì che tutti i candidati ripetano i quasi essenzialmente quei 3 o 4 temi molto popo molto comprensibili il problema del centro sinistra e del pd in particolare e invece quello di articolare troppe cose e di non essere capace di avere una comunicazione uniforme ciascuno deve dare la sua sfumatura e in quella sfumatura la gente si perde non riesce a cogliere effettivamente quella che è una chiarezza anche di messaggio e di programma poi uno dice si leggono i programmi sfido chiunque ad andare a scaricarsi i programmi che sono stati depositati nei giorni scorsi assieme alla presentazione dei simboli dei diversi partiti e andare a decidere perché e per chi votare quindi una situazione complicata credo la si debba risolvere parlando di temi che interessano i cittadini e facendo sì che tutti i candidati ma anche quelli che fanno campagna elettorale per i partiti si punti su quei temi e soprattutto si stia in mezzo alla gente ecco l'altra cosa che bisogna fare da qui al 25 di settembre stare in mezzo alla gente da parte dei candidati ma che così si possono far conoscere almeno a coloro che intercettano e da parte di tutti coloro che vogliono giocarsi come volontari come militanti chiamateli come volete stare in mezzo alla gente per far capire che i partiti non sono così lontani paolo forse ho confuso di più le idee hanno dato delle risposte io sono molto preoccupato e condivido però ribadisco temi che sono vicini alla gente purtroppo le candidature potrebbero fare molto di più ma in con questa legge elettorale secondo me incidono poco sentiamo una seconda domanda ancora su questo tema ciao fabio volevo sapere una tua opinione sulle liste del pd e in particolare per quanto riguarda lombardia e milano allora ho riconosciuto anche perché mi è arrivato un messaggio col suo nome la voce di marco ti do subito una mia impressione sulle liste del pd dopo aver fatto rispondendo a paolo il discorso di carattere più generale allora dico che non sono liste che mi sono piaciute dal punto di vista della loro costruzione è vero che non c'è stato tempo è vero però che il segretario nazionale enrico letta aveva detto fin da quando si era insediato come segretario nazionale che avrebbe fatto di tutto per costruire delle liste in maniera partecipata e non ditemi che la pseudo consultazione che è stata fatta nel due ultima settimana di luglio nella prima di agosto attraverso i livelli territoriali è stata l'insegna della partecipazione purtroppo certo il tempo era poco però ci si è davvero infilati in una modalità per avere una sorta di pezza di appoggio per delle scelte che sono state fatte sostanzialmente a roma e c'è un grande problema poi per queste liste il taglio dei parlamentari il fatto che ci sono ridotti da 925 a 600 i deputati e senatori del prossimo parlamento ha fatto sì che ci sia stato un grande sgomitare da parte soprattutto dei parlamentari uscenti per essere messi in lista quindi ha avuto un grande affare il segretario nazionale con lui tutti i vari segretari territoriali per accontentare gli uscenti soprattutto coloro che non avevano già sulle spalle molti anni di servizio parlamentare e quindi c'è stato pochissimo spazio anche per altri che avrebbero potuto giustamente entrare e rinnovare anche le liste quindi non mi è piaciuto il metodo anche se è stato un metodo almeno in parte obbligato per i tempi precipitosi di questa campagna elettorale di questa folle crisi di governo detto questo tornando a quello che dicevo rispondendo a paolo la rappresentatività territoriale è più un qualcosa che ha a che fare con le dinamiche interne dei partiti che con un'effettiva possibilità che i candidati poi e i futuri parlamentari siano radicati sui territori io sbaglierò ma la mia impressione che quando uno va a roma e va in parlamento poi fa fatica a tenere i rapporti con il territorio un po perché ritmi parlamentari sono davvero negli ultimi anni anche diventati molto più convulsi e confusi rispetto a qualche tempo fa e un po perché roma fagocita fagocita al palazzo poi ci sono delle lodevolissime eccezioni con invece parlamentari che sono sul territorio ma sapete cosa succede talvolta chi è sul territorio e sta sul territorio rischia poi di non venire sufficientemente apprezzato dal livello centrale del partito che privilegia coloro che invece tengono le buone relazioni a livello centrale ma non svicolo dalla domanda giudizio sulle liste in lombardia allora troppi paracadutati dall'esterno poi per carità il fatto di avere Enrico Letta candidato nel principale collegio di Milano è un segnale importante di attenzione per Milano però quanto questo risponde a un'effettiva necessità di valorizzare e rappresentare il territorio e poi anche altre figure che sono qua in lombardia ma arrivano un po troppo dall'esterno quindi scarsa rappresentatività territoriale e per il resto poi la mia sensazione appunto che ci sia stato un grande sgomitare da parte degli uscenti per essere riconfermati e una scarsa attenzione a un'operazione che invece dovrebbe essere nel DNA del PD ovvero quello di fare spazio anche a mondi associativi a mondi economici a mondi legati alle realtà sociali lombarde che dovrebbero trovare spazio all'interno delle liste del PD così non è stato perché per i pochi posti a disposizione per il poco tempo a disposizione e perché giustamente qualcuno potrebbe dire il parterre era già molto molto affollato e poi per carità l'attenzione al territorio uno potrebbe dire è stata garantita ad esempio dal fatto che ci sono sia il segretario regionale del partito democratico Vinicio Peluffo sia la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani in testa a due collegi plurinominali quindi con la certezza di entrare in Parlamento questo è un modo per riconoscere il lavoro fatto dal PD a livello territoriale in questi anni e valorizzarlo portandolo a livello romano questa può essere una tesi che io considero una tesi fondata personalmente però io dico che chi si occupa del partito a livello di segreteria territoriale dovrebbe essere in grado di davvero valorizzare e creare le condizioni perché dal territorio emergano le migliori candidature possibili preparando dei percorsi per tempo non aspettando solo il momento in cui la situazione precipita e allora in 4 e 4 8 bisogna andare a scegliere i candidati perché poi questi li si scelgono nelle nelle stanze ristrette delle segreterie territoriali prima e nazionali poi e quella nazionale quella che sceglie alla fine quindi io sono assolutamente grande estimatore sia di Vinicio sia di Silvia però questa storia che i segretari territoriali diventano poi automaticamente è accaduto anche in altri territori e non è un'esclusiva milanese lombarda candidati al Parlamento mi porta a dire ma allora perché uno fa il segretario territoriale del partito per essere a servizio del partito per costruirsi una strada all'interno delle istituzioni ribadisco poi Silvia e Vinicio rappresenteranno in maniera assolutamente adeguata e brillante il territorio milanese e lombardo però questa modalità per cui uno da segretario territoriale poi alla garanzia di arrivare in Parlamento posso dire che a me non piace ribadisco senza nulla togliere a Silvia e Vinicio e poi invece altre figure che non sono riuscite di fatto a entrare all'interno di liste in posizioni utili perché guardate la sta grande maggioranza di quelli che troverete nel vostro collegio o nell'uninominale o nel listino plurinominale dal terzo posto in giù per intenderci quelli non hanno alcuna possibilità di entrare in Parlamento quindi sono nomi che vengono messi lì perché rappresentano certamente delle eccellenze per il partito però non hanno alcuna speranza di entrare perché perché ormai le liste sono bloccate i giochi sono fatti e sta roba qui non funziona non mi va bene quindi Marco per sintetizzare non mi sono piaciuti i paracadutati i garantiti anche in più collegi non solo in Lombardia soprattutto nei plurinominali avrei preferito una maggior ricambio rispetto ai parlamentari già in carica che hanno tutto il diritto di poter continuare il loro lavoro però dopo un po' di legislature viva dio sarebbe anche il caso di passare la mano e fare spazio ad altri e poi questa dimensione del trovare spazio per se stessi e non fare da collettori e promotori delle istanze territoriali poi le liste sono queste io farò campagna per il PD e la farò in maniera attiva e spero davvero che ci sia un ottimo risultato per quanto riguarda il partito democratico in Lombardia poi se vogliamo entrare più nel dettaglio magari fatemi altre domande per la prossima settimana e con piacere proverò a ragionare ancora con voi ultima notazione che riguarda in generale questo percorso verso le elezioni e quindi sia domande di Paolo sia quella di Marco è uno spazio lo accennavo già prima minimo per dei mondi sociali economici associativi in particolare anche per una rappresentanza del cattolicesimo democratico con un partito democratico che mi sembra che forse anche a causa della rottura con Calenda che poi si è messo insieme a Renzi è scivolato molto a sinistra dimenticando la parte moderata e la parte cattolica democratica a cui non è stato dato uno spazio che invece c'è quando si tratta di rappresentanze territoriali e quando si tratta di andare a prendere i voti soprattutto con le preferenze nelle elezioni territoriali è andata così è un po' la colpa anche del mondo cattolico democratico di cui io mi riconosco perché probabilmente non è riuscito a sgomitare abbastanza o a trovare adeguati spazi all'interno del partito sta di fatto che c'è molta sofferenza su questo fronte ma magari avremo occasione di riparlarne terza domanda buongiorno ho questa domanda il disagio e lo stato d'animo di tutte quelle persone che subiscono gravi danni a causa di eventi atmosferici straordinari ai quali spesso assistiamo ultimamente è davvero inimmaginabile e spesso ci si domanda se le conseguenze di questi danni potevano essere previste ed evitati almeno in parte e logicamente si ricercano le responsabilità mi chiedo ci si sta muovendo seriamente in modo coscienzioso per affrontare il futuro e per preparare il nostro territorio a probabili altre situazioni così tragiche grazie grazie ho riconosciuto anche qui facile perché mi hai dato un messaggio alla voce di Laura che ringrazio per questa domanda perché è molto molto attuale sì anzitutto dobbiamo essere al fianco dal punto di vista proprio della solidarietà così morale ma anche concreta a tutti coloro che hanno subito gravi danni per quelle che oggi si chiamano bombe d'acqua possiamo chiamarle trombe d'aria insomma per le manifestazioni estreme di maltempo che ci sono state negli ultimi giorni in particolare dopo un lungo periodo di siccità allora è chiaro che tutto questo si colloca all'interno di uno scenario più ampio che sono i cambiamenti climatici per agire contro i quali ci sono due azioni da fare la mitigazione e l'adattamento le opere di mitigazione sono quelle di più lungo respiro quindi dobbiamo immettere meno gas serra in atmosfera dobbiamo bruciare il meno possibile quindi eliminare la combustione per produrre energia elettrica per muoverci per riscaldare meno si brucia più sia efficaci nel andare a mitigare le conseguenze di un cambiamento climatico che ormai è galoppante e l'altra azione quella dell'adattamento cosa significa adattamento significa fare in modo che il nostro le nostre condizioni di vita le nostre strutture le nostre case le nostre città tutte tutte le nostre le nostre infrastrutture siano capaci di attutire gli impatti di fenomeni atmosferici sempre più violenti cosa vuol dire vuol dire che ad esempio con gli allarmi che si sono sono stati anche diramati dalla protezione civile si deve evitare durante questi fenomeni estremi di stare in luoghi pericolosi a milano ad esempio sono stati chiusi i parchi cittadini questa è una misura di adattamento per evitare che delle persone rimangano colpite dai rami che possono cadere dagli alberi oppure l'altra cosa è imparare ad avere sempre meno manufatti e artefatti non adeguatamente ancorati con debite modalità di fissaggio alle strutture perché possono volare via guardate dobbiamo davvero provare a immaginare come le nostre case le nostre strutture i nostri parchi possano sempre più essere adeguati a forme estreme e violente di manifestazioni atmosferiche temporali trombe d'aria e quant'altro certo se uno va a vedere le immagini di quello che è successo in versilia si chiede come è possibile che una spiaggia ci siano tutte le cose ancorate con una tromba d'aria che arriva che ti distrugge tutto forse anche lì bisognerebbe imparare come nel momento in cui c'è un'allerta per il maltempo si possono mettere in sicurezza queste strutture e non essere sempre lì a dire beh speriamo che non arrivi quindi mitigare da un lato e adattarsi dall'altro e adattarsi significa prendere tutte le contromisure contromisure che sono anche di carattere più generale ad esempio avrete visto i fiumi di fango caduti in diversi paesi della nostra penisola nei giorni scorsi nella grande maggioranza dei casi quei fiumi di fango arrivano da alvei dei torrenti che sono stati occupati da costruzioni o che non sono stati adeguatamente puliti quindi anche lì piano piano liberare gli alvei dei torrenti è complicato sì che è complicato però prima o poi bisognerà farlo e due pulire questi alvei dei torrenti non aspettare che arrivino detriti che poi si bloccano e fanno sì che il fango invada tutto e l'altra cosa manutenere il verde perché ad esempio in toscana quelli che sono morti sono morti per alberi caduti non abbiamo sufficiente cultura di manutenzione del verde nel nostro paese e lasciamo ci appiantiamo gli alberi o li lasciamo morire non li potiamo non li curiamo quindi adattarsi significa anche fare di tutto per curare il territorio per evitare il dissesto idrogeologico per evitare che ci siano dei manufatti e degli artefatti fragili di fronte a queste manifestazioni estreme e poi ciascuno di noi deve ormai imparare che quando c'è un allarme arriva un temporale bisogna ripararsi non sotto gli alberi ma in luoghi chiusi come accade anche in altre parti del mondo laura si potrebbero dire tante altre cose ma ho già parlato troppo spero di aver risposto almeno in parte rinnovo la storia di aietà tutti coloro che sono stati colpiti pesantemente dal maltempo nei giorni scorsi grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirmi appuntamento la prossima settimana con le vostre domande che attendo volentieri alla prossima